Ciao a tutti siamo tornati qua sul quickly, come avete visto? Porca troia e che cazzo qua fuori amici? Sto per giocare adesso, come mi piace troppo dai di football è stupenda e ora niente a dopo Comunque volevo dirvi che fida l'avvo azione con Videolip, infatti penso sia viva di video che userò, che è buono, mi piace Quindi ora mi ho detto parti da PES dopo aver fatto 3 ore di video lezione, mica male, mica cazzi E a dopo con novità un po' più succo Vabbè stavo dicendo che il progetto quickly continuerà, ho in servo per voi, penso farò qualche live su youtube, tornerò a fare qualche live e da un bel po' le facciamo le cifre Non contiamo quella di 7 year, penso che tra un po' mai hanno qualche nuovo gioco da provare E niente, continuiamo a dopo Comunque devo dirvi che le lezioni da casa Mi fanno abbastanza cagare, soprattutto alcuni professori C'è per il codore che ho fatto Una direzione chimica, siamo stati a parlare tutti i tempi, 50 minuti Del fatto che alcuni non riescono a mandare i compiti, porca trovo a me, zero organizzazioni amici, cioè E nel secondo modo io è passato pure al TG sul fatto che funziona tutto, funziona un cazzo amici Quindi c'è proprio fake news a palette in questo periodo E niente, incredibile Allora farò delle news, prima di chiudere il video, farò delle live, non delle news Su PES, perché sto facendo il competitivo Su PES, penso e proverò alcuni giochi che magari mi mandano i vari sviluppatori Quindi alla prossima, ciao